Il più piccolo tra i segugi è il Beagle Io amo definirlo il cane clown perché non ci posso fare niente ma mi fanno ridere Ed è il Basset Hand E giudica questo raggruppamento Mr. Walsh Non è un Bassotto, è un Basset Hand Ho sentito i bambini che dicevano un Bassotto Allora gli diciamo che è un Basset Hand Ed è un cane specializzato nel fiutare le tracce lasciate dagli animali Questo gruppo che è sottoposto al giudizio di Mr. Walsh Sarà invece premiato dal presidente del gruppo cinofilo partenopeo Nonché giudice internazionale L'ingegnere Maria Ceccarelli Ma tutti quanti sapete che io amo chiamarla semplicemente tutti Ed ecco che al Bloodhound lascia il posto Il Bloodhound lascia il posto al Redaisal Ridgeback E parte il Dahlmada Prima vi avevo detto che è il Segugio più piccolo Di origini britannica Ama lavorare in muta E chiude dopo il Beagle questa Basserella il Basset Hand Il Basset Hand sta completando la sua fase di movimento E Mr. Walsh è pronto a chiedere un giro per tutti Grazie Tutti insieme Tutti insieme Tutti insieme appassionatamente E noi portiamo il tempo con le mani E diamo una spinta maggiore a questi soggetti Componenti il gruppo 6 Segugi e Cani per pista di Santa E' un gruppo composto da 6 soggetti molto interessanti Al terzo posto il Redaisal Ridgeback Al secondo posto il Dalmada E vince il Beagle L'ingegnere Ceccarelli è già pronta al ring Per premiare questo raggruppamento Io chiedo a Claudio e Giuliani Di prepararsi a giudicare il settimo raggruppamento Che vede i cani da ferma E vediamo che cosa ci riserva questo settimo raggruppamento Già vedo alcuni soggetti pronti Ma non so se siano tutti Just a moment Just a moment please